Start a potenza il 29 agosto, chiusura al San Nicola contro il Palermo il 24 aprile, borsone in spalla e tante tappe da non perdere. Il Bari ha due tasselli in più nel suo percorso di conoscenza verso la stagione 2021-22. Il primo è l'avversario che battezzerà l'esordio stagionale dei Biancorossi di Michele Mignani. La Fidelisandria attesa sabato 21 agosto al San Nicola per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, con in palio il pass per la sfida alla vincente tra Virtus Francavilla e Taranto. Il secondo è il calendario ufficiale del girone C di Serie C, quello che per il terzo anno di fila ospiterà Antenucci e Soci, prima in casa contro la neopromossa Monterosi, derby contro il Foggia alla decima con andata a Bari, sfida al vertice contro il Catanzaro alla tredicesima giornata, trittico finale da Brividi, Avellino, Taranto e Palermo in rapida successione. Sul campo intanto la squadra sta recuperando il terreno perduto, causa contagi da Covid-19 nel ritiro Trentino di Storo. I primi vagiti della Rosa che verrà si sono intravisti domenica nell'allenamento congiunto con la formazione Primavera, guidata da Valeriano Loseto, concluso con sette reti, 4-3-1-2 come modulo di riferimento, il trequartista che diventa l'uomo più avanzato in fase di pressing quando la palla ce l'hanno gli altri, gli attaccanti che scambiano spesso e volentieri nello stretto e si sfiancano nella pressione sui terzini avversari, i centrocampisti che ruotano e scambiano spesso e volentieri posizione. Tra i più in palla, in questo avvio di stagione ci sono senza dubbi Walid Kedira e Mirko Antenucci, il primo apre spazi, il secondo conclude, un film visto nel test in famiglia che Mignani potrebbe riproporre anche all'alba della nuova stagione, con un Simone Simeri in più a disposizione. Il gol in rovesciata contro la Primavera e il biglietto da visita dell'attaccante sulla nuova stagione, dopo i sei mesi in prestito ad Ascoli, con l'attuale direttore sportivo bianco-rosso Ciro Polito, Belli e Mazzotta stanno conquistando giri sulle fasce, Derrico sarà chiamato a impadronirsi della mediana e della trequarti quando la palla l'avrà il Bari, Bianco e Sabbione invece sperano di inseguire le tracce di Scavone, passato da sicuro partente ha confermato con prolungamento del contratto e conseguente spalmatura dell'ingaggio in tasca. In attesa del mercato, con diversi addi e qualche arrivo ancora all'orizzonte, il Bari fa i conti con meccanismi da oliare e la ricerca della composizione di un gruppo che sappia andare oltre le difficoltà.